Seguire la via di mezzo È il sentiero più breve e più diretto. Se veniste a discutere con me alcuni punti del Dhamma, io non prenderei parte alla discussione. Invece di confutare, vi offrirei alcune riflessioni da tenere presenti. Cercate di capire ciò che il Buddha ha insegnato. Lasciate andare tutto. Lasciate andare con conoscenza e consapevolezza. Senza conoscenza e consapevolezza, il lasciare andare non è molto diverso da quello dei buoi e dei bufali. Se non ci mettete il cuore, il lasciare andare non è quello giusto. Lasciate andare perché avete capito la realtà convenzionale. Questo è non attaccamento. Il Buddha ha insegnato che negli stadi iniziali della pratica del Dhamma dovete lavorare molto, sviluppare completamente le cose e attaccarvi molto. Attaccarvi al Buddha, attaccarvi al Dhamma, attaccarvi al Sangha, attaccarvi con fermezza, profondamente. Questo è ciò che il Buddha ha insegnato. Attaccarvi con sincerità e mantenere la presa. Durante la mia ricerca ho provato tutti i metodi possibili di contemplazione. Ho sacrificato la mia vita al Dhamma perché avevo fede nella realtà dell'illuminazione e del sentiero che vi conduce. Queste cose esistono veramente, proprio come ha detto il Buddha. Ma per realizzarle è necessario praticare, praticare rettamente. Bisogna spingersi fino al massimo delle proprie possibilità. Ci vuole il coraggio di esercitarsi, di riflettere e di cambiare radicalmente. Ci vuole il coraggio di fare veramente tutto ciò che è necessario. E come lo fate? Addestrando il cuore. I pensieri in testa ci dicono di andare in una certa direzione, ma il Buddha ci dice di andare in un'altra. Perché è necessario addestrarci? Perché il cuore è completamente ricoperto da incrustazioni inquinanti. Un cuore non ancora trasformato dall'esercizio è così. È inaffidabile, per cui non credeteci. Non è ancora virtuoso. Come possiamo avere fiducia in un cuore che non ha purezza e chiarezza? Perciò il Buddha ci mise in guardia dal confidare in un cuore impuro. Inizialmente il cuore è solo al servizio delle contaminazioni e quando i due stanno a lungo assieme, il cuore si guasta e si corrompe. Per questo il Buddha ci ha detto di non riporre fiducia nel cuore. Se consideriamo attentamente la nostra disciplina monastica, vedremo che tutto si riduce ad esercitare il cuore e ogni volta che addestriamo il cuore ci sentiamo agitati e infastiditi. Non appena proviamo agitazione o fastidio, cominciamo a lamentarci. Ragazzi, questa pratica è veramente difficile, è quasi impossibile. Ma il Buddha non la pensava così. Egli pensava che quando l'addestramento ci procura agitazione e disagio, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Ma noi non la pensiamo così. Pensiamo che siano segni di qualcosa di sbagliato. Questo malinteso fa sembrare la pratica molto difficile. All'inizio sentiamo agitazione, siamo nervosi e allora pensiamo di essere fuori strada. Tutti vogliono star bene, ma non si chiedono se sia corretto o meno. Quando andiamo contro le contaminazioni e sfidiamo la nostra bramosia, è normale che soffriamo. Ci sentiamo agitati, sconvolti, a disagio e infine lasciamo perdere. Pensiamo di essere sulla strada sbagliata. Il Buddha, invece, avrebbe detto che siamo su quella giusta. Stiamo affrontando le nostre impurità e sono loro che ci procurano agitazione e disagio. Ma pensiamo, invece, di essere noi stessi agitati e a disagio. Il Buddha, invece, ci ha detto che sono le impurità che saltano su e si agitano. È la stessa cosa per tutti. Per questo, la pratica del Dhamma è così impegnativa. Le persone non esaminano le cose con chiarezza. Generalmente perdono il sentiero, andando o nella direzione dell'autoindulgenza o dell'autopunizione. Si bloccano su uno di questi due estremi. Da una parte, ci sono quelli a cui piace indulgere in tutto ciò che il cuore desidera. Fanno tutto ciò che si sentono di fare. Gli piace sedere comodi. Gli piace sdraiarsi e stirarsi comodamente. Tutto quello che fanno ha lo scopo di farli stare comodi e al loro agio. Questo è ciò che considero autoindulgenza. Attaccarsi alla sensazione confortevole. Con un tale atteggiamento, come può progredire la pratica del Dhamma? Se non riusciamo più a indulgere in comodità, sensualità e benessere, ci irritiamo, ci sentiamo defraudati, ci arrabbiamo e perciò ne soffriamo a causa di questi sentimenti. Questo è uscire dal sentiero in direzione dell'autopunizione. Questa non è la via del saggio, né la via di chi è calmo. Il Buddha ci mise in guardia dal cadere in uno di questi due estremi, dell'autoindulgenza o dell'autopunizione. Quando sperimentate un piacere, siate nel consci con consapevolezza. Quando sperimentate rabbia, malevolenza e irritazione, rendetevi conto che non state eseguendo le orme del Buddha. non è la via per chi cerca la pace, ma la strada della gente comune. Un monaco che cerca la pace non percorre queste vie. Procede dritto nel mezzo, lasciando l'autoindulgenza a sinistra e l'autopunizione a destra. Questa è la corretta pratica del Damma. Se intraprendete questa pratica monastica, dovete camminare sulla via di mezzo, senza lasciarvi dominare dalla felicità o dall'infelicità. Lasciatele perdere. Invece, sembra proprio che ci spingano da una parte all'altra. Sembriamo il battaglio di una campana, spinto avanti e indietro da un lato all'altro. Nella via di mezzo, si lascia andare sia la felicità che l'infelicità. La giusta pratica è quella che sta nel mezzo. Quando ci colpisce il desiderio di felicità e non riusciamo a soddisfarlo, proviamo dolore. Camminare lungo la via di mezzo del Buddha è impegnativo e arduo. Ci sono solo quei due estremi e il buono e il cattivo. Se crediamo in quello che essi ci dicono, dobbiamo seguire i loro ordini. Se ci arrabbiamo con qualcuno, immediatamente andiamo a cercare un bastone per picchiarlo. Niente tolleranza e niente pazienza. Se amiamo qualcuno, vogliamo accarezzarlo dalla testa ai piedi. Ho ragione. questi due estremi non considerano affatto la parte in mezzo. Non è ciò che il Buddha ci ha raccomandato. Egli ci ha insegnato a lasciar gradualmente perdere tutto ciò. La sua pratica segue un sentiero che porta fuori dall'esistenza, lontano dalla rinascita, un sentiero libero dal divenire, dalla nascita, dalla felicità, dall'infelicità, dal bene e dal male. La gente che brama l'esistenza non vede ciò che sta nel mezzo. Escono dal sentiero puntando verso la felicità e poi, ignorando completamente il mezzo, passano all'altro lato, all'insoddisfazione e all'irritazione. Non fanno altro che evitare il centro. Questo punto sacro è per loro invisibile, mentre passano correndo da una parte all'altra. Non si fermano lì, dove non c'è né esistenza né rinascita. Non gli piace, per cui non si soffermano. O scendono da casa e vengono morsi da un cane o volano in alto e sono beccati da una voltoio. questa è l'esistenza. L'umanità è cieca a ciò che non ha esistenza, che non ha rinascita. Il cuore umano è cieco a questo, perciò non fa che passarli accanto o evitarlo. La via di mezzo del Buddha, il sentiero della retta pratica del Dhamma, trascende dell'esistenza e la rinascita. La mente che è al di là sia della purezza che dell'impurità è libera. Questo è il sentiero del saggio che sta in pace. Se non non lo percorriamo non saremo mai dei saggi pacifici. Questa pace non avrà mai occasione di fiorire. Perché? A causa dell'esistenza e della rinascita. Perché c'è nascita e morte. Il sentiero del Buddha non ha né nascita né morte. Non ha alti e bassi. Non ha felicità o sofferenza. Non ha bene o male. È un sentiero diretto. È il sentiero della quiete e della calma. È pacifico, libero dal piacere e dal dolore, dalla felicità e dall'angoscia. Questo è il modo di praticare il Dhamma. Quando si sperimenta ciò, la mente può fermarsi, può smettere di porre domande. Non c'è più bisogno di andare in cerca di risposte. Ecco perché il Buddha disse che il Dhamma è qualcosa che il saggio conosce da solo, direttamente. non c'è bisogno di chiederlo a nessuno. Capiamo perfettamente da noi stessi, senza ombra di dubbio, che le cose sono esattamente come il Buddha ha detto che sono. Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video, sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita. Condividi nei commenti la tua esperienza, metti mi piace e iscriviti al canale di Doeia per ascoltare altri contenuti simili. Ci vediamo nel prossimo video. .